Fondamentalmente voglio lasciare qualcosa di bello, qualcuno che riconosca che sia qualcosa di valore, fondamentalmente nel senso generale di bello. Voglio... ho interesse, ho da molta importanza a quest'attimo fuggente che è la nostra esistenza e come si dice spesso dell'opera di un artista voglio immortalare diciamo questo momento per dare proprio l'importanza alla mia esistenza ma anche a coloro che condividono questo momento, questo mondo con me. Per me è importante mostrare o sottolineare alle persone la bellezza che ci circonda, delle persone che ci circondano e che vale la pena coglierle e vivere davvero un carpe diem.